ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su un gioco che ho in realtà da tanto tempo il suo nome è rover mechanic simulator dove noi simuleremo dei ingegneri che si occupano di un rover in esplorazione su marte non ve l'ho portato prima perché il gioco era completamente in inglese ma avevo visto che gli sviluppatori avevano promesso una traduzione la traduzione arrivata prima in altre lingue e poi anche in italiano quindi continuiamo con la nostra la partita che avevo iniziato io giusto superate le prime fasi iniziali dove ci troviamo all'interno della della base e stiamo ancora seguendo diciamo il tutorial lì fuori c'è marte la fuori ci sono i droni ci sono i primi rover insomma questa è la camera di equilibrio che va a bilanciare la pressione all'interno di questa stanza e qui abbiamo il nostro la nostra camera operativa dove possiamo vedere la temperatura interna esterna la pressione la radiazione l'ossigeno di ossido di carbonio ora dobbiamo iniziare una nuova missione intanto inizio a farvi vedere tutto quello che c'è da vedere quindi qui c'è l'ucp che ci permette di guidare di controllare il la gv questa gv poi ci permetterà di andare a prendere il rover per poterlo appoggiare qua e poterlo riparare qua abbiamo la stampante 3d con cui possiamo andare a stampare i pezzi che ci servono che ci costeranno tempo e risorse qui abbiamo il fantumatore che ci permette di ottenere delle risorse di produrre del degli oggetti c'è più che altro distruggiamo degli oggetti per ottenerne altri qua abbiamo il tavolo da lavoro che ancora non è disponibile e poi vabbè dall'altra parte abbiamo vabbè questi sono puramente decorativi la radio che ci permette in ogni diciamo simulatore di questo tipo di meccanica di ascoltare la musica qua abbiamo un tavolo cs e qui in fondo abbiamo il configuratore del rover dove andremo anche a programmarlo ora dobbiamo accettare una nuova missione ok adesso iniziamo la missione premendo il tasto f apriamo quello che è il tablet dove possiamo vedere tutte le varie informazioni di quello che abbiamo fatto finora quello che abbiamo attualmente in magazzino i potenziamenti quindi come su mechanic simulator possiamo andare a potenziare i talenti del nostro meccanico si qua dice che si possono anche andare a risettare e ora abbiamo il un lavoro da fare sul veicolo sojourner allora la ruota che hai sostituito l'ultima volta che era la prima missione funziona perfettamente ma sojourna sembra avere più problemi di quanti ci aspettassimo prima di risolvere il problema della ruota il cuscinetto deve aver subito danni che ne hanno causato un rapido deterioramento dato che hai già esperienza con il sojourner potresti per favore darci di nuovo un'occhiata questa volta ti pagheremo un extra perfetto appoggiamo l'importa digitale insomma il momento del test durante quest'ordine devi usare tutto ciò che hai appena imparato e riparare il lavoro da sola non preoccuparti se qualcosa fa stato puoi sempre riavviare il progresso del tuo ordine tutto quello che devi fare è riavvia questa operazione riporta al gioco ok allora vabbè vedete che qua andiamo a recuperare diciamo delle delle risorse a questo punto dovrebbe sbloccarsi qua la possibilità di controllare la gru che prima non era attiva e a questo punto andiamo a recuperare vedete qua c'è il ok con shift più s abbassiamo f prendi no perché non me lo fa prendere non posso mi spiace meccanico non posso lasciatelo fare ok adesso sì perché tutto magnetico ok sganciamo il l'air over qui no non me lo lascia fare ok adesso levati dalle balle perfetto ok abbiamo aperto esci perfetto abbiamo scaricato il rover qui guarda dobbiamo andare a capire qual era il problema il il cuscinetto era allora premi per selezionare vedete che qua possiamo andare a ruotare un po' come in tutti i giochi di di simulazione di meccanica individua classico classico eh sì sacco di viti vanno via e poi andremo anche a stampare eventualmente il pezzo che ci manca e rispetto a un mechanic simulator quello di car mechanic simulator dovremo andare a eh piuttosto che comprare a stampare il pezzo perché ovviamente siamo su mate quindi allora vediamo un attimo volevo dare un'occhiata allora vediamo un attimo volevo dare un'occhiata ai pezzi che abbiamo qua parti mancanti obiettivi posizionare ok ripare al rover allora eh e dice che il cuscinetto il cuscinetto andiamo a smontarlo devo dire perché non riesco a vedere la qualità della della parte però ok protezione del cuscinetto la leviamo via le viti non è sicuramente un gioco per tutti questo ma mi sta venendo però un piccolissimo dubbio per quanto riguarda la grafica che non vorrei infatti infatti era a ultra ma l'ha abbassata l'ultimo aggiornamento infatti non mi sembra neanche bellissimo accettiamo e vediamo adesso se effettivamente la storia cambia e direi di sì direi decisamente di sì eh mamma mia cambia sì allora ho tolto il cuscinetto quindi il cuscinetto mi piacerebbe andare a vedere adesso come è messo ok praticamente andiamo adesso sul magazzino e andiamo a selezionare il cuscinetto e con la rife analizziamo che ha una durabilità del 97% quindi direi che al momento non sembrerebbe neanche rotta quindi vabbè lo andremo a montare a smontare dopo a rimontare dopo anzi adesso io vorrei andare a vedere dovremmo smontare tutte le ruote a questo punto eh sì tutte le dobbiamo smontare ecco qua dopo aver smontato quattro ruote abbiamo il primo cuscinetto andato adesso proseguo smontando anche le altre due le ultime due ok sembrerebbero al momento non troppo messi bene il la protezione cuscinetto B e un cuscinetto quindi adesso vedremo di procurarci negli altri ok qua nella stampante 3D adesso andiamo sulle parti non elettroniche e andiamo a produrre la protezione cuscinetto B e il cuscinetto quindi cuscinetto vediamo se il cuscinetto è quello qua ok 40 secondi l'altra protezione la cosa interessante in questo gioco che non probabilmente non vedremo adesso qua è che quando noi produciamo parti elettroniche dovremmo andare anche a configurarle cioè praticamente tirare elettronicamente un un diciamo un circuito quindi creare una cioè risolvere una sorta di minigioco intanto io vado e demolisco le due parti quelle rotte il cuscinetto e l'altro così recupero qualche materiale vediamo un attimino se abbiamo anche dell'altro che possiamo magari pensare di sostituire vediamo vediamo facciamo le cose fatte bene facciamo una ruota una ruota e un cuscinetto di protezione B di protezione B vediamo un attimo se riusciamo allora no continuo a sbagliare il tasto allora vediamo ruota ruota la produciamo e non abbiamo più tanti ma si sostituiamo anche una ruota una delle due che vedete che intanto sta producendo prendiamo le parti stampate perfetto la ruota la ruota che non è messa bene io la demolisco che otteniamo 41 parti quindi protezione cuscinetto B e un altro cuscinetto magari vediamo e vediamo dai adesso facciamo ancora cuscinetto ne produciamo un'altra anche se poi non abbiamo più soldi vabbè la sto rischiando perché se poi ci sono altre magagne è un po' un problema comunque iniziamo adesso a rimontare tutto con prendiamo le parti stampate qua sta ancora stampando vedete figo anche nel discorso dello schermo vado a rimontare tutto ora ok intanto non sono dimenticato di dire col tasto 1 e 2 si va in modalità disassembla con in alto a sinistra vedete il meno e con assembla con il con il più quindi ora io vado e seleziono e assemblo e monto i pezzi ho voluto fare un controllino anche su un'altra parte che non avevo controllato che sono i cuscinetti di protezione perché devono essere almeno 50% quindi onde evitare figure ho preferito far così ora ricomincio a montare ok ora abbiamo completato il lavoro ho inserito il configuratore del rover del rover e vediamo ora come funziona la configurazione iniziale questo è il gioco per la configurazione in pratica dobbiamo rimetterlo in piedi abbiamo un tot di allora vediamo se mi ricordo il voltaggio attuale il voltaggio richiesto è 5 quindi bisogna connettere da questo a questo mettendo dei collegamenti allora ok e andare giusti come vediamo ok vediamo adesso se ok dovrebbe essere tutto molto semplice come configurazione dobbiamo aggiungere 5 come 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 voltaggio richiesto quindi non sforare allora vediamo mettiamo un dritto qua mettiamo una curva e poi due dritti e dovremmo esserci voltaggio richiesto vediamo adesso se se siamo giusti adesso metto questo e questo lo vuoto allora abbiamo un voltaggio di meno 2 meno 1 ok più 3 e più 3 e più 3 perfetto più 3 più 3 meno 1 fa 5 perfetto abbiamo completato il rover quindi il rover è pronto lo abbiamo configurato e dovrebbe essere a posto intanto l'ordine non ha in carichi premium ordine completato accetta ok ok abbiamo guadagnato esperienza abbiamo delle parti danneggiate che abbiamo sostituito possiamo continuare e abbiamo altri ordini disponibili quindi abbiamo questo un altro rover per marte con un prezzo basso ci darà un po' di esperienza e abbiamo il motore che non è disponibile è disponibile al momento possiamo scegliere anche che servizio offrire standard o premium ma in realtà non possiamo permetterci un servizio premium al momento sembrerebbe che questo rover non abbia il il motore funzionante quindi vedete che adesso quella sembra essere una scatola molto più grande quindi qua possiamo sbagliato possiamo andare a prenderlo con la V il terminale e non ho ancora capito esattamente cosa serva comunque intanto ci mettiamo sopra scendiamo lo prendo lo porto di qua e poi lo vado a scaricare no non posso ok può essere scaricato perfetto porto via la V che con i tasti è molto semplice da controllare ora usciamo e andiamo a vedere che cos'è questo rover questo rover è molto più figo dell'altro guardate che che bello con tutti con tutti i sensori sopra e questo qua ha il motore difettoso deve essere smontato completamente quindi ragazzi qui vabbè il tavolo da lavoro qui non è ancora non è ancora disponibile si sbloccherà prossimamente possiamo andare a vedere intanto anche i potenziamenti che possiamo prendere non abbiamo ancora punti però possiamo andare a ridurre il tempo per rimuovere una parte del 30% poi come si funzionava anche sui sui meccanissimuleto o tutti gli altri perché ne sono usciti una marea allora questo gioco qui tirando due somme è originale perché ci mette davanti a una nuova ambientazione comunque fantascientifica tra virgolette perché alla fine è realistica spero che comunque anche la realizzazione dei pezzi sia stata fatta abbastanza fedelmente ovviamente tutto questo non esiste al momento su marte e non esisterà per molto tempo credo però è qualcosa di assolutamente originale e il fatto di stampare di tenerci magari delle parti in più per risparmiare poi in futuro non doverle stampare è molto 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 interessante anche l'idea del fantumatore andare a prendere delle parti che abbiamo diciamo risparmiato il medikit non so ancora cosa serva comunque vabbè si andrà probabilmente ad aprire il gioco in futuro il gioco è in sviluppo quindi non è completo lo dicono gli sviluppatori all'inizio della partita è senz'altro no è interessante è interessante se vi piace il gioco è presente su Steam è uscito già da un po' come vi dicevo perché l'italiano è arrivato da pochissimo hanno fatto un paio di patch in cui hanno aggiunto un sacco di lingue anche l'italiano 9 lingue totali costa pochissimo perché costa 9,99€ e lo si trova a volte anche in sconto a 7,49€ quindi è un prezzaccio calcolando quello che comunque dà se vi piace rilassarvi smontando parti riparando rovers e siete appassionati di spazio di fantascienza di esplorazione spaziale quindi questo era il gioco fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima e ciao ciao